Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Sebi e oggi vi farò una recensione scarsa sul nuovo fumetto di Leo Ortolani dal titolo Matana. È una miniserie di 6 numeri che usciranno sia in Edicola che in Fumetteria. In Fumetteria in più vi regalano questo simpatico sottobicchiere di cartone, se li prenotate. Quindi ragazzi, torna Leo Ortolani con una nuova miniserie. Questo è il primo numero, sono 32 pagine in bianco e nero al costo di 3 euro, edito dalla Panini Comics. Stavolta, come vi dicevo, Leo Ortolani porta il suo personaggio principale, la sua maschera principale, che è Ratman, nel mondo del Fair West. Ragazzi, per gli amanti del Fair West questo fumetto non può mancare, perché i riferimenti ai film di Sergio Leone, di Trinità e vari altri sono veramente tantissimi. Io ho cercato di coglierne qualcuno e magari questo qua ve lo dico. Ma già cominciamo per esempio dalla copertina dove ci sono tre personaggi in bella mostra, ragazzi, già il buono, il brutto e il cattivo è il film. E quello lì non si scappa. Anche i personaggi, per esempio, qui Leo Ortolani lo disegna chiaramente per quello che è, e quindi, presidente, Clint Eastwood. Già all'inizio, ragazzi, Leo Ortolani non disegna, Leo Ortolani rappresenta già direttamente proprio come se fossero dei film. Tant'è che se leggete il fumetto vi sembra di sentire proprio i rumori, la musica, c'è la colonna sonora, che poi si scoprirà essere cantata dal cavallo in realtà. E compagno dei nomi dei personaggi, come se fossero attori. Per esempio, qui c'è Stephen Lee, che è un chiaro richiamo all'Evan Cliff, oppure c'è Clint Verlan, che è un chiaro richiamo a Clint Eastwood. Quindi, ragazzi, Matana è un cacciatore di taglie, giunge nel paesino che si chiama Golden City. Consegna allo sceriffo un bandito. Ragazzi, anche qua c'era scritto vivo-morto, ma il viaggio era lungo e quindi, praticamente, l'ha ucciso e la consegna direttamente morto. Va a riscuotere la taglia, che è di 2.500 dollari. Lo sceriffo ne ha 2.200 e quindi, praticamente, come resto, gli dà un prigioniero che si chiama Isaia. In realtà gli aveva proposto che aveva tre messicani da 100. Matana ha detto, no, no, grazie di ente spiccioli. E quindi, praticamente, insieme a Matana ci sarà anche questo Isaia che si porta da presso. Entra, naturalmente, ragazzi, ci sono tutti i classici cliché dei film western. Quindi c'è lo sceriffo, c'è il saloon, c'è la bevuta al saloon, c'è il classico duello, c'è la versata dei whisky, ci sono proprio i rumori degli stivali, quindi c'ha chink, c'ha chink. Ci sono i classici duelli, diciamo, con tanto di musichetta con la tromba di sottofondo. Paraparapaa! Solo che qui si vede proprio il nomino che suona la tromba quindi ragazzi è veramente uno spasso leggere un fumetto di Leo Ortolani questi tre personaggi sia Matana, sia Janga che il personaggio di Leo Ortolani più simbatico in assoluto è il personaggio trans e quindi si presta benissimo di solito alle battute piccanti che piacciono tanto a Leo Ortolani, le ha messe più o meno in tutte le serie che ha scritto questi tre personaggi, Speranza, Matana e Janga si riuniscono insieme perché andranno alla ricerca di un bandito pericolosissimo si chiama El Muerto già il titolo è tutto un programma nessuno l'ha mai visto in faccia perché non si fa neanche in tempo a vederlo che già viene fulminato e quindi questi tre, mossi da motivazioni diverse andranno a cercare questo El Muerto c'è una taglia di 50.000 dollari naturalmente lo vogliono morto quindi non c'è neanche da discutere e si riuniscono insieme e partono alla ricerca di questo El Muerto ragazzi quindi già dal prossimo anche qui c'è un chiaro richiamo per esempio nella scena finale questa qua la posso dire perché non c'è particolare spoiler c'è lo sceriffo che tenta di convincere questi tre a non partire andando incontro alla sorte andando a sfidare El Muerto fa decidere alla sorte quindi lancia una moneta in aria i tre fulminano e prendono la moneta al volo con tre colpi e ragazzi qui si forma il classico segno del topo il classico segno che porta Ratman il simbolo di Ratman ragazzi quindi con questo è tutto il prossimo numero anche qua fra un mese uscirà si chiama Spara più forte Matana non ti sente altro richiamo naturalmente ai film western con questo io ho concluso vi do appuntamento con il prossimo video per un'altra recensione scassa grazie a tutti grazie a tutti